ciao ragazzi sono qua con events oggi giornata super importante perché prendo il mio primo aereo il ragazzone qua mi porta in aeroporto mi fa il favore di accompagnarmi boh niente mi sto cagando addosso però però dai ce la ce la faremo anche bellissimo volare è bellissimo momento più bello quando prende sai l'aereo va prende una cosa ti viene è bellissimo ti divertirai voglio allora io ho un amico è un amico pilota di ryanair e per fortuna c'è stato lui ad assistermi durante tutto il percorso di cecchi cose ce l'avrei ma ce l'avrei combinato però avresti fatto fatica esatto mi ha aiutato lui e poi niente ci vediamo in aeroporto speriamo bene potenzialità no che potrebbero andare non so in altri paesi perché in italia non si trovano e non vanno perché perché è scomodo no scomodo andare in altri paesi lasciare la famiglia lasciare la mamma il papà è scomodo vogliono essere comodi quando sei comodo non avrai niente niente quando sei scomodo a me piace a me piace provare nuove cose essere scomodi sentire l'ansia sai del di cose nuove sì 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 arrivi arrivi lontano ragazzo qua è saggio seguitelo su instagram seguitelo che tanto non lo usa adesso l'ha cancellato però è il ragazzo con cui faccio lifetime chi non ha visto andate a vedere perché è un canale in cui facciamo solo documentari vero ivans dei documentari gente che racconta della sua esperienza della sua vita adesso forse abbiamo qualche progetto in piedi bello bello interessante però con calma la cosa mi stava dicendo che l'ansia no va bene si perché ha paura di volare cristiano paura di provare allora gli ho detto che va bene provare perché è giusto provare no se no non è vita fare sempre le stesse cose non è vita provare cose altre cose quella significa vivere esatto io sono super d'accordo comunque dai già che ho acceso qua la macchina fotografica vi spiego dove sto andando cosa stiamo andando a fare sto andando a qua così ok sto andando a palermo per girare dei video con un cliente insomma adesso magari poi ve lo ve lo presento vediamo vediamo quando arrivo starò lì quattro giorni non lavorerò spero tutti quattro giorni di fila come un pazzo ma vorrei portarvi anche un po in giro vedere un po di cose e mangiare mangiare tornerò se con 10 kg in più e basta ci sarà magari una serie di vlog in cui potremo fare una parte un po più tecnica faremo sicuramente in cui magari giro i video vi spiego un po un po di cose magari luci set eccetera eccetera una parte in cui magari andremo in giro per la città e ci divertiamo un po scattiamo magari qualche foto vediamo ma la vera avventura di questo viaggio è salire sull'aereo diciamo che io ho sempre avuto il terrore di volare mi è sempre incuriosito perché buono lo so è una cosa bella no vedi l'aereo passare tutti c'è almeno io mi giro sempre a guardare e quindi è sempre stata una cosa che mi ha incuriosito da piccolo sono salito su un elicottero tipo saremo in terza quarta elementare ho fatto un giretto su su un elicottero ma mai su un aereo non lo so mi spaventa un po per dire sì dobbiamo uscire qua esatto e non ho mai fatto le montagne russe non ho mai fatto tutte queste robe qua perché ho l'ansia di queste cose e mai fatto quindi il il focus un po di questo vlog è sopravvivere all'ansia di di questo volo perché sicuramente poi quando a terra sarò super felice super contento di aver fatto questa esperienza perché mi ripeto ogni ogni anno mi ripeto cavolo neanche quest'anno preso l'aereo 26 anni 27 quest'anno mai preso l'aereo e finalmente è arrivato il momento però c'ho l'ansia c'ho l'ansia ho poco da fare ma va a panculo va non l'aveva mai fatto lui eh non è si vede che è ganese ragazzo qua non sapevo neanche di sta qua te ne metto qua? si si vai butta lì tieni per dopo lì c'è un po di moneta come ti paghi il pedaggio perché siamo venuti con la mia macchina così non gli faccio muovere la sua su e giù vedi questi sono amici veri oh no poteva dormire lui invece adesso vai di qua racconta del tuo primo volo il mio primo volo per venire in italia avevo sei anni dal Ghana e questo è stato il mio primo aeroporto davvero? ho arrivato a Milano e da Milano subito ho preso un altro volo per venire a Trieste e quindi mi viene... baliconia? si no emozione? si mi emoziono un po' perché mi ricordo ero in macchina c'era mio papà no? mio papà mio zio e io gli facevo... che erano già quattro papà si e gli facevo mille domande gli facevo mille domande perché era una cosa che non avevo mai vista si 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 chiaro quindi gli facevo mille domande mi ricordo ho visto le vigne sai che le vigne sono tutte dritte e gli dice oh mio dio io gli dicevo sempre ma cosa sono queste robe tutte in linea così? ma si metteva a ridere no? perché non ci sono le vigne no? si 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 eh oh siamo arrivati ragazzi ci siamo? ah ah vediamo se riesco a farvi vedere qualcosa eccolo qua ci siamo? Trieste Airport partenze ci siamo? buono fra ciao 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 Grazie a tutti.